Tavola 49 Vediamo adesso di rappresentare in prospettiva un quadrettato che potrebbe essere la pavimentazione di un ambiente o una scacchiera o qualsiasi altra cosa composta tutta una serie di quadretti uno vicino all'altro Allora come abbiamo già fatto per la tavola 48 procediamo a disporre sul nostro foglio le due viste nella parte bassa del foglio il piano della pianta e nella parte alta il piano della prospettiva dove poi andremo a rappresentare appunto il nostro oggetto in prospettiva Adesso voi state vedendo il piano della pianta cioè la vista dall'alto dell'ambiente di lavoro che è comprensivo dello spazio dove è rappresentato questo quadrettato il cui lato è 4,5 cm e ogni singolo quadretto ha la misura di mezzo centimetro inclinato diciamo così con una misura a piacere Vediamo dall'alto LTE delle O quindi il quadro di fatto come se fosse un'unica linea e il punto di vista nella parte avanti al quadro Allora come sempre procediamo cercando le fughe e le tracce delle nostre rette il procedimento è analogo non c'è niente di nuovo rispetto a quello della tavola 48 ecco qua vediamo adesso che cosa succede Allora la prima cosa che faremo troveremo i due punti di fuga Ora nella tavola 48 avevamo esclusivamente quattro linee ABCD per cui avevamo trovato diciamo le fughe che erano due e dandogli come nomenclatura FA, FB, FC e FD Adesso diciamo così che le linee parallele sono tante per cui indicheremo soltanto per FA la fuga della retta A e di tutte le sue parallele FB la fuga della retta B e di tutte le sue parallele quindi facendo come abbiamo fatto precedentemente la parallela alla retta A passante per il punto di vista troveremo FA che è questo la parallela alla retta B cioè la retta che comprende il segmento B passando per il punto di vista determinerà FB che appunto sarà la fuga della retta B e di tutte le sue parallele perché come abbiamo detto più volte le rette parallele hanno tutte una stessa fuga ecco qua adesso le fughe le abbiamo rappresentate con il colore ciano con il verde adesso qui si vede un po' male troveremo le tracce allora come sempre le tracce delle rette sono i prolungamenti di queste rette di questi segmenti non rette ma segmenti fino a raggiungere la linea di terra quindi alla retta B il prolungamento determinerà la traccia B ora la traccia B la stessa cosa sarà per tutte le altre adesso anche in questo caso mettiamo la nomenclatura traccia B soltanto sulla prima non su tutte perché altrimenti il disegno diventerebbe illegibile però in questo modo abbiamo ritrovato tutte le tracce di tutte le parallele a B la stessa cosa la faremo per la traccia di A troveremo la traccia di A e automaticamente tutte le parallele eccolo qui traccia di A e tutte le parallele ad A in questo modo noi avremo di tutte le linee della nostra scacchiera chiamiamola così tracce e fughe adesso vediamo come procedere procediamo come sempre garantisco la selezione allora le fughe che sono quelle disegnate nel colore magenta sono nella linea dell'orizzonte quindi F A ed F B le porteremo alla linea dell'orizzonte le tracce invece eccolo qua le tracce verdi andranno tutte sulla linea di terra in questo modo abbiamo rappresentato nel nostro quadro cioè nel nostro piano della prospettiva tracce e fuga adesso non dobbiamo fare altro che congiungerle allora iniziamo con le traccia la traccia di B e di tutte le sue parallele e le facciamo convergere tutto nel punto di fuga B facciamo la stessa cosa per la retta A e tutte le sue parallele e la facciamo coinvolgere coincidere con la fuga di A vedete in questo modo già si intravede la nostra scacchiera il nostro quadrettato in prospettiva quindi questo sarà diciamo così il disegno finale allora come sempre per le mine utilizziamo la 2H per tutte le linee di costruzione e la F per ripassare la figura finale quindi con la F noi avremo la figura iniziale nel piano della pianta e la figura finale nel piano della prospettiva qui adesso abbiamo usato i colori per rappresentare per capire bene la differenza tra le tracce e le fuga e chiaramente nel disegno finale non ci dovranno essere i colori ma come vedete in questa immagine ci dovrà essere tutto realizzato con le mine 2H linee di costruzione e F le linee ripassate le linee finali grazie a tutti